Sono Carla Vita Antonio, Lucilla. Io credo che ogni volta che noi non parliamo ci sia qualcuno che lo sta facendo al posto nostro. Ed è per questo che dobbiamo essere tutte e tutti in piazza il 15 ottobre. È arrivato il momento di prendere parola. Se tu non parli, qualcuno parla al posto tuo. Cominciamo a costruire l'alternativa. Tutte e tutti in piazza il 15 ottobre. L'alternativa alla crisi c'è, siamo noi.